Sì, sì, ma dì, come ti chiede? Carmela! Puri Carmela? Ah, vittu qua Carmela. È tutto Carmela, sono. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ma non ci ne faccio, te la voglio fare a te, mi sdivacca. Buonasera, buonasera, come stai? Ma ti metto tu là, ti faccio a te là. Ma fa il bocchino in là. No, grazie. Ma ti metto tu qui, ci ne faccio, te la faccio. Ah? Ma in là, chissi, te la faccio a te. Eh? Questo è il mio padre Carmela, io non lo so bene. Questo è il mio padre. Ti pensai che il mio figlio. Te le piace? Come si chiama? Mario. Mario. Ma tu non lo dà luce? Eh, no. Come dice? Come sei già in Italia qua? Ma la me... No, no, no. Come dice? Sto bravo qua. Come dice? La doccia vita, mi hanno detto il bell'uomo al paese. Le prime cose mi hanno detto qua. Si mangia, si beve, si dorme e si inzacca il grano. La doccia vita. La cucina è così distante. Chi, chi, chi? Mario. Ma che stai facendo? Fai lì, vacco? Come dice? Che dice? Mi chiede a Michele, che dice? Dice, io sono andata a lavorare, ho lavorato, i miei risparmi, non mi hanno detto bene. Dici, dici, dici. Dici, che i risparmi sui, mangio e bevevo. Allora, come dice tutti quanti il bell'uomo là? Mio marito non mi hanno detto, è una fatica ancora, ero a 65 anni, ero a 70 anni, è una ragazza da fatica. E qua è poco, a me che aveva 70 anni, a me che aveva niente. Ma ero proprio qui dalla fossa. E vado a fare anche qui. E l'uomo è finito. E il governo siamo noi. Ma porta la verga, tutti sempre. Eh? Quando vi? Ancora non mi hanno dato a rire. E allora c'è anche sotto la rire. Sotto la rire. Ma che vai a facerlo? Ah, che vai a facerlo? Ma dolce la vita. Faccio io, come i belloni, i belloni che fanno la barra. Ciao. Ah, ora c'è questo qui. Ehi, let's go. Andate. Ehi, non mi hanno detto, è il governo. Ehi, non mi hanno detto, è una cosa stessa. Ehi, non mi hanno detto, è un giusto. Ma qual è la tua? Andate, insomma. Ehi, non mi hanno detto. Ehi, non mi ha detto, è un giusto. Grazie a tutti 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 E poi Grazie a tutti 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 Grazie a tutti